Oggi in Abruzzo si registrano 76 nuovi positivi al Covid-19 di età compresa tra 1 e 86 anni, su 7.414 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. Nessun nuovo decesso, mentre aumentano i ricoverati in area medica e i pazienti in isolamento domiciliare. Dal report dell'assessorato regionale alla sanità emerge che dei 76 nuovi positivi, 13 sono residenti in provincia dell'Aquila, 13 in quella di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 25 in quella di Teramo, mentre 5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 1.555 tamponi molecolari e 5.859 test antigenici. Non si registrano decessi e sono 72.985 guariti, più 13 rispetto alla giornata di ieri. Sono 2.032 gli attualmente positivi, più 62 rispetto a ieri. 56 ricoverati in area medica, più 6 rispetto al 14 agosto, 5 in terapia intensiva, il dato è invariato, mentre sono 1.971 i positivi in isolamento domiciliare, più 56 rispetto a ieri, che sono costantemente monitorati dalle ASL.